Ok! Eh, potevi aspettare ad entrare! Dai, fai la rifare un attimo! Mannaggia! Che dici? Eh, certo, sarà una bella sigla! Però senza sanguinare! Mannaggia il corridorio che c'era questo! Che figata! Questo era esattamente il corridoio del film horror! Basta, si cambia tutto! Io toghi, 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 io toghi. No, ma scherzi, mi orte? C'è ci ricordo stati di seguito di poter vedere! Perchè bene o male, nel senso della vostra condizione, tu ce l'hai chiaro? Oppure lo stai scoprendo? Questo può essere un mezzo per scoprirlo anche, un mezzo per specchiarvi. Una sola? E via! Ciao! 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 Per massima libertà nei temi di quello che avete voglia di tirare fuori. E' una cosa fastidiosa? Che fate vedere così? Noia! Un ruolo! Un ruolo! L'amore della penne qua che sta per cadere, la casca, mentre la mano si rialza e non c'è più nessuno. DRIMMM! 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 Pronto? Ciao! Sì, te lo passo. Pronto no? Cioè, vabbè ciao come stai? Eh, non posso... No, non posso! Ma pensa che io ho un po' di pochettino? Chi guarda, sente che dietro c'è uno, c'ha la macchina in mano e fa così, meglio è. Meno ti fai sentire, meglio è se li prendi. Perché queste sono già più pesanti, però la mia leggerissima si manca. E lo rischia di muoversi, certo. C'è una scala verde, giallo e rosso. Quando arriva rosso, dovresti cercare di mantenerlo tra il verde e il giallo, tra lo zero di Bibi, senza guadagno. No, noi si chiusi. Booooo. Sei alzato troppo presto, guarda. è stata la cacatura guarda in camera